Benvenuti al Maglificio Rosti, il cuore del Made in Italy. Iniziamo a sondare il terreno per cercare un team interessato a un brand italiano che garantisca il vero Made in Italy. Per quanto riguarda la maglia è un insieme di tessuti per essere più performante e più traspirante e non avere fastidi cuciture. Per noi questi tessuti li abbiamo scelti perché sono fatti interamente in Italia. Sono tra i migliori sul mercato. La prima parte sono tutte le maquette che sono dessinate e poi passiamo all'impressione dei prodotti con le macchine che abbiamo visto da. Abbiamo la scelta di tessuto. 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 Abbiamo Romano. Abbiamo necessita un complet contatto contatto. Abbiamo una relazione per nasce e anche l'intérêt di tutti i fan che seguono il nostro equipe tutti i giorni tutto durante la settimana.